Buongiorno a tutti, oggi giornata in rosso sui mercati finanziari dopo che ieri avevano chiuso negativamente sia Wall Street sia l'Europa e oggi in apertura giù l'Europa e anche Wall Street sui futures, quindi si prevede apertura abbastanza negativa con la discesa dai massimi di quasi due punti percentuali. Il motivo? Le trimestrali. Le trimestrali del Magnificent Seven non sono piaciute ma in assoluto non stanno piacendo le trimestrali di Wall Street. Questo chart, uno dei primi che vi mostrerò, fa vedere come in questo quarter le società americane hanno sorpreso al rialzo ma solo, diciamo solo, del 74.7% che è uno dei livelli più bassi, come vedete, dall'ultimo trimestre del 2022. Tutto questo, nonostante le trimestrali americane a livello di attese, siano state tagliate da agosto ad oggi dall'8% al più 4.3%. Nonostante questo, le sorprese sono negative rispetto alla media dell'ultimo anno e mezzo abbondante. Quindi, ieri Microsoft e Meta sicuramente buone trimestrali, non brutte di per sé, ma Guidance non è piaciuta. Non è piaciuta né quella di Microsoft che prevede per il business del cloud una diminuzione significativa, né quella di Meta che prevede invece un aumento della spesa nella sezione AI. Il che vuol dire fondamentalmente che quello che noi stiamo pagando oggi, vedete, questo è un chart che vi mostra, ma è abbastanza chiara, come gli earnings, questi in bianco, sono fondamentalmente legati strettamente al prezzo delle azioni e come gli earnings attualmente previsti a più 18% di crescita in questo trimestre delle Magnificent 7 è destinato nei prossimi trimestri a scivolare. Ovviamente, se dovesse scivolare gli earnings, come vedete anche qui, a quando sono scivolati gli earnings, sono scivolati i prezzi delle Magnificent 7, chiaramente, considerando che le prime dieci azioni dell'SP500 contano il 36% di tutto l'indice, una discesa delle Mag 7 avrebbe un effetto, come lo sta già avendo, importante sull'indice azionario mondiale e quindi a cascata su tutte le altre borse. Questa sera, occhi puntati su Apple e Amazon, altri dati particolarmente importanti, Apple in particolare, come sappiamo, è la prima società, in prima volta, prima volta, seconda, insomma, tra Apple e Nvidia sono le prime due società più grandi al mondo, con una capitalizzazione di 3.4 trilioni. Occhio perché non è finita qui domani, quando in Italia è vacanza, qui non è vacanza né a Londra né in America, è anzi una giornata importantissima perché verranno pubblicati dati sui non farm payrolls previsti a 110.000, quindi decisamente in ribasso rispetto all'ultimo numero, il 254.000, ma chiaramente sappiamo che durante i non farm payrolls si muove tutto il mercato. Andando a vedere un po' più nel concreto se l'SP a questi prezzi è conveniente oppure no, perché alla fine è vero che tutti dicono comprate, comprate, che tra il lungo periodo il mercato sale, nel lungo periodo siamo tutti morti, quindi ha poca importanza e questo charter lo fa vedere, questo è il charter che è Dal Jones, come fa vedere come a volte, nel corso della storia, ci sono stati anni, decadi, qui 16 anni, prima che l'indice recuperasse i suoi prezzi. È successo anche di recente, poi dal 2008-2009 sono arrivate le banche centrali, la spesa governativa esplosa, 36 trilioni, il debito in America è capito, accounting, il balance sheet della Banca Centrale Americana, che era di 500 miliardi nel 2008, è arrivato a 9 trilioni di picco e adesso sta scendendo, ma in ogni caso c'è un grandissimo quantità di denaro. Quindi una situazione molto particolare è questa dal 2008 ad oggi, al 2008-2009 sono stati 14-15 anni di crescita esponenziale degli indici americani che hanno performato con una media di più 13%, molto elevata anche rispetto all'eccezionalità del mercato americano che già nella sua storia ha segnato più 10. Quindi questo addirittura fa dire a Goldman Sachs che le attese per i prossimi 10 anni sono per un ritorno medio del 3%, con una massima del più 6%, minimo più 1. questo è il scenario di Goldman. Ma vediamo una cosa, perché adesso è sicuramente un po' costoso comprare le azioni americane. Allora, prima di tutto, questo è un chart per vedere come il Cap Earnings Yield, rispetto ai 3 mesi rispetto all'SP, inizia ad esserci una biforcazione importante. Qua, occhio, questo non vuol dire che dovete vendere domani mattina o questo pomeriggio, ma vuol dire che per un investitore di lungo periodo, comprare a questi prezzi sicuramente c'è un allarme, nel senso che potrebbe essere costoso per da qui al prossimo futuro. Un altro chart rilevante, appunto, come diciamo, è questo. Vi facciamo vedere come su 19 metriche rispetto a 20, secondo Bank of America e Bloomberg, l'SP è molto costoso rispetto alla sua media storica. Un altro chart rilevante è questo, che mostra come gli earnings, lo yield degli earnings dell'SP 500 sia inferiore addirittura a quello del decennale americano, decennale americano, che come sapete è schizzato dal 3.6 al 4.2, 4.3 di recente, nonostante il taglio di 50 punti base, per effetto della possibilità concreta di una vittoria di Trump, che sarebbe, secondo gli economisti, inflazionistica e di conseguenza potrebbe portare a una rivisitazione a rialzo dell'inflazione e i bond vigilantes si stanno già preparando, quindi con i rendimenti che salvano, accompagnati da forza di dollaro. Ma la cosa importante da rilevare qui è che il rendimento del decennale americano ha addirittura superato gli earnings yield dell'SP 500, quindi diventa, come dire, un po' controsenso comprare azioni che sono tendenzialmente rischiosi, che danno un rendimento più basso dei bond, che tendenzialmente sono più sicuri. Quindi questo è un dato sicuramente che fa riflettere. In tutto questo, un'altra cosa importante è questo chart che mostra come nell'ultimo periodo, qua cambiamo tema, l'oro si è disalineato anche rispetto al rendimento del TLT, che è il decennale e il ventennale americano. Nel senso che ultimamente, nonostante i rendimenti dei bond siano saliti, il gold, diciamo che ha fatto spallucce, ha continuato la sua corsa su nuovi record storici, toccati proprio ieri e oggi ritoccati, a 2007 e 90, e si è staccato quindi dall'andamento del TLT. Ora, tendenzialmente il gold sembra in una situazione di overcomprato, e quindi continuare a comprare gold, anche se è una commodity un po' particolare, potrebbe anche qua risultare rischioso per chi ha un'ottica di lungo periodo. Nel breve ovviamente non è facile dire, però tendenzialmente il gold, poi oggi c'è la febbre del gold, ma ricordiamo un dato, dal 1926 a 2023, il gold ha generato ritorno del 4.8% l'ordine dell'inflazione, il bond 5.3% e l'SP 10%. Quindi occhio a buttarsi a capofitto sul gold, perché nel lunghissimo periodo, cioè non ha sovraperformato nessuno delle altre asset class, sicuramente ha dato sicurezza in situazioni di tensione geopolitica. Tutto questo, come vi ho detto, è stimolato sicuramente dal debito americano che continua, come vedete, a crescere, soltanto fin nel 2021 e 2022, è diminuito, proprio casualmente, quando i mercati azionari hanno visto la correzione importante, e poi è tornato a salire in maniera significativa, accompagnando quindi anche in qualche modo le performance economiche dell'America, ricordiamo la spesa pubblica americana è arrivata a 122% del prodotto interno lord, però fin quando cresce del 2.8%, va bene, il problema sarà quando magari il prodotto interno lord, l'economia americana, inizierà a rallentare. L'ultima cosa a farvi vedere, questo sarà un tema molto importante, è qua. A parte, parleremo a breve, la settimana prossima, se rimanete sintonizzati, perché avremo un grandissimo speciale con Giuseppe e Francesco, dove parleremo appunto, insieme ad altri tanti ospiti dell'elezione americana. Le elezioni americane importanti, i mercati si stanno già, si stanno già in qualche modo posizionati per il Trump trade, una potenziale vittoria di Trump, e come vedete, nell'ultimo periodo, se lo Stoxx 600 ha continuato la sua tenuta, se non altro, di più 8 o più 9%, è sceso invece l'indice di Barclays, che mette insieme le società europee, esposte alle potenziali tariffe, come sapete, del 10% che Trump vuole mettere, rispetto a tutti i paesi, addirittura il 60% della Cina. Questo ovviamente è un effetto negativo per società esposte, Adidas, Diageo, e ancora europee, nei confronti dell'America, ma anche le società americane si stanno riposizionando, e vedete, le società americane, esposte a un potenziale impatto indiretto delle tariffe americane, delle tariffe di Trump, sta iniziando a soffrire. Evidentemente, una votione Trump che sta portando quindi rendimenti al rialzo, dollaro al rialzo, un disalienamento di alcune azioni rispetto ad altre, sta già performando i suoi effetti. Occhio, perché se dovesse vincere Kamala Harris, arriverebbe un repricing importante. di tutte le asset class. Sicuramente il dato di domani su Non Pharma sarà rilevante per farci capire la temperatura dell'economia americana. Non mancate, perché noi ci saremo in diretta, e poi ovviamente il 5, il big day per le elezioni americane, e il 7, attenzione, riunione della Fed, che farà poco, ma in qualche modo sarà importante per capire cosa si aspettano nelle prossime sedute. Per quello che riguarda oggi, mercati che continuano a scivolare i futures americani che arrivano, vedete, su livelli importanti, tra le altre cose questo è un livello importante perché questa è l'apertura del mese di ottobre. Tra le altre cose, guardate, questo è un chart che fa vedere come l'SP500 negli ultimi 12 mesi, cioè a partire da novembre dell'anno scorso, ne ha chiusi 11 positive e solo uno negativo negativo. 12 mesi. Quindi è una sovra performance particolarmente forte, indica il trend molto forte, indica molto bullish, ma occhio per chi chiaramente compra questi livelli e spera magari che il trend continui in eterno perché come vedete anche nel 2020, 2021, poi c'è stata una correzione, tutto quello che sale prima o poi corregge, quindi occhio a questo. Occhio anche al Nasdaq che fino adesso è stato guidato dalle Magnificent Seven, gli risultati non sono piaciuti di Microsoft e di Meta, soprattutto all'evo di Guidance, vedremo stasera il Levy Weight Apple e qua, anche qua, vedete che il Manderl S.P. Mucena è andato a fare i nuovi massimi storici, il Nasdaq non ce la fa e ha fatto un doppio massimo sporco, però da qua potrebbe iniziare una correzione abbastanza importante. Ultima cosa sul Gold, come detto il Gold qua ha fatto un doppio massimo relativo a 2007-90 circa, massimo storico, tendenzialmente sta chiudendo diverse settimane, non a vedere, positive, storicamente quando 6-7 settimane positive e comunque sta chiudendo un anno spaventoso con più 40%, il ritorno atteso per l'anno successivo diventa molto più basso a singola cifra. Quindi anche qua sempre molta cautela e attenzione nel buttarsi a capofitto a seguire dei trend che in Ebrei potrebbero farci male. Ultima notazione, Bitcoin. Bitcoin è stata veramente molto tattica, toccato, come vedete qua, il nuovo, il ritoccato, il massimo storico a 73,500 e per adesso risulta essere un doppio massimo storico. Se dovesse bucare e chiudere sopra sia il cartello settimanale che il desiderio che il settimanale potrebbe avere ulteriore spazio. Viceversa, io consiglio di non buttarsi a comprare ora ma meglio quando Bitcoin dovesse rompere i massimi storici. Con questo è tutto, l'appuntamento è per domani, per chi vuole, ovviamente, noi ci saremo per la diretta di Non Fammi Per Ols e occhio stasera ad Apple e Amazon e noi ci vediamo molto presto. Grazie e buon giorno da tutti. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.